Il rilancio di Teramo Capoluogo passerà attraverso la capacità di progettare per sfruttare al meglio i fondi del Recovery Fund. Per questo c'è bisogno di una grande sinergia tra istituzioni, associazioni, università e fondazioni. Una cabina unica, la cui regia sarà effettuata dal Comune di Teramo. Il primo passo è stato un incontro online, organizzato dal Sindaco Gianguido D'Alberto, che ha messo insieme gli enti interessati per analizzare le prossime occasioni finanziarie per il territorio. È partita questa cabina di regia, che dovrà lavorare in tempi strettissimi, nell'ambito della quale ho raccolto tutti i soggetti istituzionali, gli attori istituzionali, che ovviamente svolgeranno un ruolo diretto per la presentazione dei progetti sul Recovery, ma non solo, perché abbiamo anche altri canali di finanziamento importanti, il contratto istituzione di sviluppo, che abbiamo ottenuto grazie alla richiesta che abbiamo formulato al Presidente Conte, insieme al Commissario Legnini, per il Cratere. Quindi arrivare ad un parco progetti, ad una serie di proposte che partano da Teramo città-capoluogo e abbiano la forza ovviamente di allargarsi a tutto il territorio. Ovviamente è una prima fase, che si allargerà poi tutte le associazioni, penso alle associazioni ambientaliste, penso agli ordini professionali, che abbiamo già sentito, a tutto il mondo della cultura, per poter arrivare ad una proposta progettuale, che è finalizzata sia al Recovery, ma che garantisca un piano strategico, una pianificazione strategica per la nostra città di lunga prospettiva. Il più grande e importante progetto di questa città è il recupero dell'ex manicomio, ma che fine ha fatto? Dal punto di vista del procedimento amministrativo, il Comune ha giocato un ruolo fondamentale in questo, non c'è stato alcun intotto. Oggi, paradossalmente, su un procedimento che sta arrivando a compimento, sono stati spostati i fondi da parte della Regione Abruzzo. Una scelta sbagliata, che è avvenuta ovviamente con la garanzia da parte del Presidente della Regione di ricollocare subito sulla programmazione 2021-2027 le risorse per l'ex manicomio. Ovviamente prendiamo atto di questo impegno, ma al momento non abbiamo ancora avuto risposte. E su questo faremo una battaglia forte. Insieme all'Università, insieme a tutto il territorio, devono essere immediatamente ripristinati i fondi per il recupero dell'ex manicomio, anche implementati, così come richiesto dalla stessa Università. Non possiamo correre il rischio, dopo tanti anni di attesa, di perdere l'occasione unica, straordinaria, per Teramo Città-Capologo. Quindi lavoreremo con il Presidente della Regione affinché sia la prima opera da reinserire la nuova programmazione. A questo punto, però, una riflessione d'obbligo. Teramo come può pensare a progetti futuri quando il finanziamento di 30 milioni di euro per il più importante progetto di rilancio del capoluogo aprutino, il recupero dell'ex manicomio, è stato cancellato dalla Regione Abruzzo.